Ciao, bentornati e bentornate sul mio canale. Ecco un video con cui imparare come mettere dei lucchetti di chiusura e quindi bloccare l'avanzamento nelle vostre escape room, ma dei lucchetti tutti particolari, quindi portiamo a un livello più alto questi giochi digitali che si possono fare sia a distanza che in classe, che insieme agli studenti che lasciarli come compito per casa e che rappresentano un bellissimo esempio di didattica eccezionale, quindi prendere il buono di tutta la didattica digitale che siamo stati costretti ad imparare negli ultimi anni ed utilizzarlo per rendere più piacevoli, più coinvolgenti e più emotivamente forti le nostre lezioni, sempre ricordando che le emozioni sono proprio il veicolo principale per la memorizzazione. A questo riguardo qui in alto trovate una playlist completa di tutti i miei video di didattica eccezionale con altre idee se avete bisogno un po' di rinnovare il vostro palinsesto scolastico. Per chi non sa assolutamente di che cosa sto parlando, quindi non ha la più palida idea di che cosa siano le escape room, sempre qui in alto a destra ci sarà un link tra pochi secondi che vi porterà al video che vi spiega semplicemente cosa sono, come funzionano e perché dovreste usarle in contesto scolastico, indipendentemente dalla modalità con cui le vorrete creare. Se invece avete bisogno solo di un piccolo ripasso di tutti i modi diversi in cui si possono creare queste escape room, vi lascio sempre qui in alto destra il link diretto alla playlist, quindi una serie di video già salvati tutti in un unico elenco che vi portano ai vari tutorial per creare escape room con moduli, con slides, con thing link, anche con youtube, pensate. Perché vi dico le playlist e le playlist e insisto ultimamente? Beh perché quando cliccate su una playlist c'è sempre un bottoncino che vi permette di salvarla e di tenerla da parte per quando vi servirà. Quindi cliccando sul bottone con il più salvate la playlist dentro nella vostra applicazione youtube e non dovrete più tornare sul mio canale per ritrovarla, l'avrete lì sempre salvata a imperitura memoria di questi anni di didattica digitale. E a riguardo di cose da salvare assolutamente qui in alto a destra trovate il link alla mia pagina dei corsi wiki scuola che vi permette di iscrivervi a corsi che vengono riconosciuti come formazione e che sono acquistabili con la carta docente su una piattaforma che è assolutamente riconosciuta dal MIUR. Quindi andate un po' a spiare. Se invece non volete perdervi niente 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 proprio di tutto quello che pubblico io di digitale e di didattico allora iscrivetevi alla newsletter non solo digitale per docenti con il link che trovate proprio qui sotto. Ma torniamo a noi. Cosa vuol dire escape room con lucchetti di chiusura? Un escape room è già una qualcosa di chiuso da cui riesco a uscire solo risolvendo enigmi. Quindi perché questo video? Beh perché il lucchetto che rappresenta un blocco per cui lo studente non può andare avanti nel gioco se non digita la parola segreta oppure il codice che gli avete fatto comporre risolvendo diversi enigmi oppure più banalmente più didatticamente classico la risposta alla domanda che gli fate ecco questo è un lucchetto classico ma noi andremo a imparare oggi a fare dei veri e propri lucchetti visivi. Quindi un blocco che sia anche stimolante dal punto di vista grafico è veramente molto veloce da preparare. Ve ne faccio vedere alcuni esempi. Si apre una finestra e c'è un muro o un altro sfondo che potrete scegliere tra quelli a disposizione in cui lo studente non può fare altro che mettere la risposta e provare a uscire dall'escape room. Oppure una immagine con una stanza magari di una segreta di un castello di una porta qualcosa con un lucchetto effettivo grazie al quale noi riusciamo poi a condurre gli studenti a una finestra in cui bisogna inserire il codice la parola la risposta per poter uscire dal gioco. Ecco tutto questo è possibile farlo con diversi programmi. Il principale quello più complicato più complesso dal punto di vista del docente non degli studenti è Thinglink accompagnato da Canva però c'è anche la versione semplice google moduli se quindi siete degli dei docenti poco digitali e che non volete troppo complicarvi la vita e avete già benissimo imparato a usare google moduli questa è la vostra soluzione. Qui prima di lasciarvi ai video tutorial ci sono tutti i miei contatti vi ricordo che potete trovarmi su tutti i social scrivermi una mail se avete qualche problema particolare che non riuscite a risolvere oppure di nuovo cercarmi sulla piattaforma wikiscuola se state cercando modi per spendere il vostro bonus da carta docente. Ma ora veniamo a noi i tutorial sono proprio qui in questo bivio potete scegliere cliccando quale video vedere ora per creare i lucchetti di chiusura in modalità diverse. Buon divertimento ci vediamo nei prossimi video e a tutti buona didattica eccezionale